E parliamo ora di un omaggio particolare che la Fondazione Marilena Ferrari di Bologna ha offerto al Cardinal Caffarra. Si tratta di una copia della prima enciclica del Papa in un'edizione speciale nel Sombova. Pesa 18 kg, la copertina è in argento cesellato e racchiude la trascrizione manuale, calligrafata e miniata della prima enciclica di Papa Benedetto XVI, la Deus Caritas Est. L'ha realizzata nella sua officina in Piazza Santo Stefano a Bologna la Fondazione Marileva Ferrari, che dopo aver donato lo scorso dicembre la prima riproduzione proprio all'estensore dell'enciclica, Papa Ratzinger, ha ora offerto la seconda copia all'Arcivescovo di Bologna, Cardinal Carlo Caffarra. Per realizzare la miniatura, curata nei particolari, anche attraverso la scelta accurata dei materiali come il velluto e la carta marmorizzata, ci hanno lavorato per 8 mesi 15 artigiani. Altre due riproduzioni sono state messe in lavorazione e anche se il valore stimato si aggira attorno ai 160.000 euro, la Fondazione Ferrari non ha intenzione di venderle. Andranno nelle cattedrali di New York e di Madrid.